Sono Dante Costa, sono titolare e unico dipendente, quindi factodum della Pellicano Libri, una libreria che sta in periferia di Roma, all'altezza della Boccea, quartiere Casalotti, un quartiere al di fuori della grande raccorda lunare. È un quartiere abbastanza vasto, abbastanza anche popoloso, certo non come i quartieri di periferia di Roma, quindi noi lavoriamo con un po' come se fossimo in un paese, 25 anni che sono, anzi più di 25 anni che sono aperto. La mia storia nasce da mio nonno che già era libraio, quindi io sono nato, ragazzino, uscivo da scuola e il mio mondo era la libreria perché abitavamo fuori, quindi io uscendo da scuola il mio spazio era una stanza, questa era una libreria storica di Catania, quindi io sono nato là in Sicilia e la mia vita la passavo il pomeriggio in questa libreria dove dovevo studiare, ma siccome poi il tempo era fino alla chiusura, una volta studiato l'unico compagno che avevo nei libri, quindi c'era questa passione. Le vicissitudini hanno portato i miei genitori a separarsi, quindi poi io sono finito in tutto altro settore e poi nel 92, con il ritorno di mio padre a Roma, abbiamo intrapreso questa follia di aprire una libreria, abbiamo cercato una zona di Roma negli anni 90 dove ancora non ci fossero questi grandi ipermercati, una zona dove non ci fosse una libreria, solo libreria e fino adesso ce l'abbiamo fatta. Siamo solo libreria, quindi non ho mai venduto un prodotto che non sia il libro. Il consiglio per il Libraio Sordiente? Il Libraio Sordiente è un grande passione, innanzitutto una passione, perché se lo fa a livello che è un'idea commerciale devi lasciar perdere. Oggi non ci sono più i margini di una volta, la concorrenza è spietata, l'online purtroppo sarà sempre un nostro nemico e sarà sempre un nemico che non hai la forza da solo di poter combattere, quindi una grande passione, quindi una passione, una conoscenza, non ti puoi improvvisare e questo è il consiglio che posso dare, grande passione invece. Vi saluto tutti!